Salve Regina, Mater Misericordia, vita dolce e d'ora. Continuiamo, cari amici, il nostro viaggio alla scoperta di Maria. L'ultima volta abbiamo riflettuto sull'importanza del consenso di Maria dato all'annuncio dell'Angelo inviato da Dio, ma ci eravamo lasciati chiedendoci come mai Dio Padre abbia voluto che l'incarnazione fosse preceduta dal consenso di una piccola ed umile fanciulla. Il Concilio risponde affermando che Dio Padre ha voluto ciò perché così come una donna aveva contribuito a dare la morte, una donna contribuisse a dare la vita. Diceva infatti San Giovanni Paolo II che Dio, avendo creato l'uomo maschio e femmina, volle affiancare anche nella redenzione al nuovo Adamo, la nuova Eva. La coppia dei progenitori aveva intrapreso la via del peccato. Una nuova coppia, il figlio di Dio con la collaborazione della madre, avrebbe ristabilito il genere umano nella sua dignità originaria. E in sostanza anche il pensiero di Sant'Ireneo, il quale scrisse che come Eva disobbedendo, divenne causa di morte per sé e per tutto il genere umano, così Maria, obbedendo, divenne causa di salvezza per sé e per tutto il genere umano. Così dunque, il nodo della disobbedienza di Eva trovò soluzione grazie all'obbedienza di Maria. Ciò che Eva aveva legato per la sua incredulità, Maria l'ha sciolto per la sua fede. Motivo per cui anche molti padri, fatto il paragone con Eva, chiamano Maria la madre dei viventi e affermano spesso la morte per mezzo di Eva, la vita per mezzo di Maria. Pare logico perciò che San Luigi Maria Grignion da Montfort riprenda l'immagine della Genesi, dove Dio preannuncia l'eterna inimicizia tra la donna e il serpente. Dio ha fatto e formato una sola inimicizia, ma irriconciliabile, che durerà e anzi aumenterà fino alla fine. Quella tra Maria, sua degna madre, e il diavolo, tra i figli e i servi della Santa Vergine e i figli e i seguaci di Lucifero. Così che la più terribile nemica del diavolo che Dio abbia creato è Maria, la sua santa madre. Egli le donò fin dal paradiso terrestre, quantunque ella non fosse ancora che nella sua mente tanto odio contro questo maledetto nemico di Dio, tanta abilità per scoprire la malizia di questo antico serpente, tanta forza per vincere, abbattere e schiacciare quest'empio superbo, che egli la teme non solo più di tutti gli angeli e gli uomini, ma, in un certo senso, più di Dio stesso. E non ci sembri esagerata questa affermazione di San Luigi. In primo luogo, dice, perché Satana, essendo superbo, soffre infinitamente di più di essere vinto e punito da una piccola ed umile serva di Dio. E l'umiltà di lei l'umilia più della potenza divina. In secondo luogo, perché Dio ha dato a Maria un potere così grande contro i diavoli che essi temono di più, come sono stati spesso obbligati a confessare loro malgrado per bocca degli ossessi, uno solo dei suoi sospiri che è le preghiere di tutti i santi e una sola delle sue minacce contro di loro che tutti gli altri loro tormenti. Ciò che Lucifero perdette con la superbia, Maria lo guadagnò con l'umiltà. Ciò che Eva ha dannato e perduto con la disobbedienza, Maria lo salvò con l'obbedienza. Eva, obbediendo al serpente, perdette con sé tutti i suoi figli e glieli consegnò. Maria, essendosi resa perfettamente fedele a Dio, salvò con sé tutti i suoi figli e i suoi servi e li consacrò alla sua maestà. Capiamo allora che il segreto di Maria sta proprio nella sua umiltà che ha fatto di una giovane donna chiamata ad un compito altissimo quale diventare la madre di Dio l'umile ancella obbediente, l'ancella del Signore. Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. È la sua umiltà che l'ha resa obbediente ed è attraverso la sua umiltà e il riconoscimento della sua piccolezza di creatura che Dio ha potuto compiere in lei grandi cose e che tutte le generazioni la chiameranno beata come lei stessa è costretta a riconoscere nell'inno del Magnificat. L'anima mia magnifica il Signore ed il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente e santo è il suo nome. L'umiltà di Maria traspare così anche dalla sua preghiera dove mette al centro non se stessa pure Santissima e oggetto dei privilegi e della benevolenza divini ma Dio, il suo Signore, il suo Salvatore. Maria non si gonfia, non si vanta ma al contrario si svuota di sé si spoglia del suo Io e così fa spazio dentro di sé per accogliere Dio il Dio che ha potuto così incarnarsi in lei il Verbo, la Parola che ha potuto incarnarsi non soltanto nel suo grembo ma anche nella sua stessa vita. Ecco il senso di quella affermazione avvenga per me secondo la Tua parola. Maria è beata ed è madre di Gesù non soltanto biologicamente non soltanto perché l'ha portato in grembo e lo ha allattato ma soprattutto perché ha ascoltato ha accolto la parola e l'ha messa in pratica. Dice San Luigi Maria Grignon da Montfort Maria ha vissuto una vita molto ritirata la sua umiltà è stata così profonda che non ha avuto sulla terra nessuna prerogativa se non quella di nascondersi a sé stessa e ad ogni creatura per essere conosciuta soltanto da Dio. Dio Padre ha consentito che essa non facesse nessun miracolo in vita sua almeno miracoli grandiosi benché egli gliene avesse dato il potere. Poi come fa spesso San Luigi mette relazioni alla Vergine Maria con le persone della Santissima Trinità e dice Maria è il capolavoro per eccellenza dell'Altissimo di cui egli si è riservato la conoscenza ed il possesso. Maria è la madre ammirabile del figlio che egli si è compiaciuto di umiliare e di nascondere durante la sua vita per favorire la sua umiltà indicandola con il nome di donna come un'estranea benché nel suo cuore egli lastimasse e l'amasse più di tutti gli angeli e degli uomini. Dio Spirito Santo comunicò a Maria sua fedele sposa i suoi doni ineffabili e la scelze come dispensatrice di tutto ciò che possiede in modo che ella distribuisce a chi vuole quanto vuole come vuole quando vuole tutti i suoi doni e le sue grazie e non viene dato alcun dono celeste agli uomini che non passi per le sue mani virginali poiché è tale la volontà di Dio che volle che noi avessimo tutto per mezzo di Maria così doveva essere arricchita e innalzata e onorata dall'Altissimo con lei che si è fatta povera umile e nascosta fino a nulla con la sua profonda umiltà per tutta la vita ecco il pensiero della Chiesa e dei Santi Padri Maria comanda nei cieli sugli angeli e sui beati la volontà dell'Altissimo che esalta gli umili e che il cielo, la terra e gli inferi si pieghino ai comandi dell'umile Maria che egli ha fatta sovrana del cielo e della terra condottiera dei suoi eserciti tesoriera dei suoi beni dispensatrice delle sue grazie artefice delle sue grandi meraviglie riparatrice del genere umano mediatrice degli uomini sterminatrice dei nemici di Dio e fedele compagna delle sue grandezze e dei suoi trionfi per mezzo di Maria cominciò la salvezza del mondo e per mezzo di Maria deve essere compiuta Maria quasi non comparve nella prima venuta di Gesù Cristo affinché gli uomini ancora poco istruiti e illuminati sulla persona di suo figlio non si allontanassero dalla verità attaccandosi troppo fortemente e grossolanamente a lei ma nella seconda venuta di Gesù Cristo Maria deve essere conosciuta e rivelata dallo Spirito Santo affinché per mezzo suo Gesù Cristo sia conosciuto amato e servito pertanto in questi ultimi tempi Dio vuole rivelare e manifestare Maria il capolavoro delle sue mani perché ella si nascose in questo mondo e si pose al di sotto della polvere con la sua profonda umiltà e poi perché il mezzo sicuro è la via diritta immacolata per andare a Gesù Cristo e trovarlo perfettamente chi troverà Maria troverà la vita cioè Gesù Cristo ma non si può trovare Maria se non la si cerca né si può cercarla se non la si conosce bisogna dunque che Maria sia più conosciuta che mai per la maggior conoscenza e gloria della Santissima Trinità dunque per la sua umiltà Maria è stata esaltata da Dio e l'umiltà l'ha resa obbediente capace di ascoltare di accogliere e mettere in pratica la parola e vedremo la prossima volta come sin da subito i frutti di questa accoglienza si siano fatti concreti nella carità come il verbo si sia fatto carne in lei ma anche come lei stessa abbia saputo incarnare la parola nella sua vita gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio ora è sempre nei secoli dei secoli Amen Regina della Pace prega per noi Madre misericordia vita dolce espes nostra salve grazie a tutti Grazie a tutti.